Grazie Se l'ha un ragazzo di una seconda, che non c'è un po' di gran po' di un paio, che l'ha comprata, se trova bene, se non sto bene, se se è carato il mio, non c'è un po' di un paio speciale, alta gamba, parte da gamba... ...sette, scomali di gamba, 9 km, 7x9, 60. Sì, per la sicurezza di stanno scorso, qualcuno ha sbagliato. Allora se tutti l'hanno così, se si vede qualcosa, vogliono vedere anche in genere, se non vedi la strada, perché questo è il numero che ne fai. Non si vede a 30 minuti. Buon appetito! Grazie. 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 Tanto, sai come faccio io? Montaneggio più nero, poca retta. Ho fatto il buon anno. Ho fatto il rafferino di domenica. Sì, sarà la sesta, forse, ma... Sì, sì, è un retto allenamento, sennò lo stanno scendo. Però, secondo me, quando si incana si spoggia un po'. Non è la condizione, no? Vodata , sta arrivando, sì, è una condizione. In un po' di palla, non accenduto. È una condizione. È un attivano di un po' di palla. È un attivano di un progresso che si tratta. Un'attività. Ho! Ha! Ho! Grazie a tutti. 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 Vai, vai. Grazie a tutti. 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 , 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 ,,, 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 ,,,, ,,, 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 ,,,, 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, 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 ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, 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 ,, ,,, ,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, 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 . Grazie a tutti. 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 a tutti.